Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento con l'informazione del quotidiano l'attacco. Foggia al voto in autunno con il leader del Movimento 5 Stelle Conte che vuole fortemente l'europarlamentare Mario Furore come candidato sindaco mentre Giuseppe Mainiero rompe con i 5 Stelle e con Cusmai. Ce ne parla Lucia Piemontese. Un weekend che ha cambiato radicalmente gli scenari politici foggiani quello appena trascorso. Se nei mesi scorsi il commercialista Giuseppe Mainiero, leader della civica resto a Foggia, pareva poter rappresentare il candidato sindaco di una coalizione con Movimento 5 Stelle e civici emilianisti, adesso è evidente la frattura venutasi a creare con entrambe le formazioni. Il leader Giuseppe Conte ha detto chiaramente, incontrando i suoi affoggia, di volere l'europarlamentare Mario Furore il quale ha deciso di chiudersi in riservo per diversi giorni in attesa che il quadro si chiarisca. Se l'assessore regionale Rosa Barone, stando persone alle vicine, coltivava il sogno di diventare sindaca della propria città, tale ambizione non era e non sarebbe invece nei pensieri di Furore che deve svolgere un altro anno di mandato a Bruxelles. Le sue perplessità non dovrebbero nemmeno essere legate e eventuali veti da parte del PD per via della sua indole baricadera che negli anni lo ha portato ad attaccare i DEM su molteplici questioni. Adesso che governano insieme in regione è impossibile che dal PD qualcuno gli dica di no, peraltro i DEM dovrebbero opporgli un proprio nome che al momento non pare esserci, commentano all'attacco alcuni emilianisti. Quel che appare evidente è come le strade di Maniero e 5 Stelle civici di Rosario Cusmai si siano separate con Primo che si sente tradito. Già da una settimana circa l'ex Meloniano, grande oppositore di Landella, aveva anticipato i potenziali alleati che entro il 12 giugno avrebbe annunciato la corsa a Primo cittadino come già fatto nel 2019 e così ha fatto con un chiarissimo comunicato stampa diffuso domenica scorsa, finalizzato a mettere i contiani con le spalle al muro. Si recano al lavoro per l'ultimo giorno da dipendenti ma trovano le saracinesche chiuse. E' successo questa mattina ai dipendenti dell'APCO, all'ex società titolare della sosta tariffata di Foggi, oggi sostituita dalla GPS SPA di Piacenza. Sentiamo Maurio Pitullo. Sosta tariffata, un altro dilemma qui a Foggi, oggi una protesta per cosa? Niente, non è che stiamo protestando. Noi siamo venuti qua per timbrare perché oggi è l'ultimo giorno di lavoro perché nella lettera di preavviso di licenziamento recita che il 13 sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro. Stamattina veniamo qua per timbrare a lavorare e lo troviamo chiuso. Ieri comunque ci fu avvisato dal responsabile che diceva vabbè io ritirò le chiave e me ne va. Cioè praticamente diceva a noi chiudiamo oggi, cioè ieri. E gli facevo notare che sulla lettera di recesso recitava che l'ultimo giorno era il 13, mi fate poi una copia. E noi stiamo qua perché l'ultima mattina se dovessimo fare delle opposizioni ai licenziamenti che loro, collettivi, che loro hanno predisposto senza accordo sindacale, visto che abbiamo anche un contratto indeterminato con APQ, non possono dire che abbiamo recesso il contratto noi perché ci siamo presentati, noi siamo venuti regolarmente a lavorare. Sono loro che l'ufficio, come si può ben vedere, sta chiuso. Bilancio Pride da Arcigay, le bigotte. La città risponde in modo positivo, pronta al cambiamento. Prospettive politiche in città sconfortanti. Si poteva agire diversamente, affermano dall'Associazione Foggiana. Sentiamo Silvia Guerrieri. I colori che serpeggiano per le vie della città, i movimenti di corpi che camminano allo stesso ritmo. Il Pride è questo ma anche molto altro, come ha ricordato già Osvaldo Supino. Il Pride è un posto accogliente, pieno di comprensione. La manifestazione non è solo pronta a promuovere, dare spazio e voce ai diritti della comunità LGBTQ+, bensì è la corrente che vuole difendere l'appartenenza a tutti i diritti. Un bilancio di queste manifestazioni lo può dare già Alice Rizzi, presidente Arcigay Foggia, le bigotte. Afferma il bilancio è positivo, possiamo ritenerci soddisfatti. Non era scontato portare quei numeri in piazza quest'anno, considerando che non c'è più un solo Pride regionale. Le bigotte comunque non si fermano. Il prossimo appuntamento è per il 17 giugno al Chiostro di Santa Chiara, dove faranno un bilancio con la cittadinanza delle iniziative promosse quest'anno non solo in funzione del Pride e per quelle che arriveranno. Molte le storie che si sono affacciate durante il Puglia Pride lo scorso 10 giugno. Per quanto riguarda invece l'aspetto politico della città, Rizzi afferma, nonostante partecipi attivamente ad alcuni gruppi che fanno collaborazioni politiche, la sensazione che ho è che nei prossimi mesi non cambierà molto. Non credo saremo in grado di cogliere la straordinaria occasione che abbiamo. Domani in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, Coldiretti Donne Puglia collaborerà con Avis invitando a donare il sangue al centro trasfusionale del Policlinico Riuniti di Foggia. Coldiretti Donne Impresa ha sposato in pieno la campagna di Avis a Foggia per promuovere la donazione di sangue, come spiega Maddalena Rignanese Rinaldi di Coldiretti Donne Puglia, con un'emergenza che scatta soprattutto nel periodo estivo quando le temperature che si innalzano erodono le scorte di sangue. Le donne delle aree rurali prosegue, sempre sensibili ai temi legati alla salute, si sono fatte promotrici di un gesto determinante per tanti, consapevoli del dono prezioso verso le persone che ha bisogno di sangue. Un'altra notizia, questa volta di cronaca, con le accuse di associazione a delinquere, finalizzata la detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizionamento, con l'aggravante del metodo mafioso, sette persone sono state arrestate a Foggia e trasferite in carcere dalla Polizia che ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bari. I sette sono stati condannati appena che vanno dagli otto ai venti anni di reclusione. I fatti contestati rientrano nell'ambito delle indagini su tre omicidi e tre tentati omicidi compiuti a Bieste nel 2018 e culminate nell'operazione Agosto di Fuoco che portò all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare a carico di sette persone vicine al clan di Girolamo Perna. Sabato prossimo il Cus Foggia partirà per Camerino per disputare i campionati nazionali universitari 2023. Il servizio è di Domenico Suriano. Insomma tra pochi giorni si parte per questi campionati nazionali, che cosa si aspetta dalla squadra? Mi aspetto prima di tutto grande senso di appartenenza all'Università di Foggia, grande impegno per raggiungere i risultati migliori possibili e mi aspetto soprattutto grande attenzione al fair play, al rispetto dell'avversario, rispetto delle regole. Noi dobbiamo essere volano di messaggi formativi e culturali importanti. Su questo però siamo ben attrezzati e ben avviati, sia il nostro Ateneo che il Cus sono in questo solco, anche attraverso progetti di inclusione sociale. Quindi questi messaggi vanno di pari passo ovviamente all'aspetto puramente agonistico, perché come dicevo prima noi vogliamo vincere, non vogliamo solo partecipare. Però sempre con criterio, con impegno, anche perché sono ragazzi che fanno sacrifici ogni giorno e ai quali l'Università ha dato grande attenzione. Quando è pronta, vedremo i successi, le aspettative sono buone. Un'altra volta abbiamo avuto 8 risultati, spero di poter confermare i nostri Ateneo che possano confermare i risultati o addirittura migliorare i medallieri. Ma ho ancora ritorato a quando vuoi dire l'importante questa iniziativa? È sempre stata una cosa importante. Già quando lo studente io, e qui stiamo parlando 40 anni fa, era famosa nell'Università di tutti i vari campionati regionali e nazionali, perché è un modo anche per i ragazzi stare insieme, confrontarsi e girare l'Italia. Questa è la sua prima università, com'è la vita? Speriamo che sia un successo. Comunque impegno c'è da parte di tutti, ma soprattutto impegno ai ragazzi che si applicano, si sono allenati e speriamo che tenano buoni successi. Ancora per lo sport, la Puglia è pronta ad accogliere il Motor Surf World Championship, che dal 16 al 18 giugno prossimo farà tappa sul Gargano, nello scenario del Lago di Varano in località San Nicola. Sono in arrivo da tutto il mondo oltre 130 atleti e atlete che prenderanno parte all'evento sportivo presentato questa mattina a Bari, presso il Palazzo della Presidenza della Giunta regionale. Sicuramente è un evento molto importante, in quanto è un campionato del mondo, di una specialità nuova per noi. Infatti il Motor Surf esiste nella Federazione Italiana Motonautica insieme alle altre specialità tradizionali che sono circuito, show, endurance e moto d'acqua dal 2021. È una nuova attività motonautica, estremamente moderna, tra l'altro perché di concezione è recentissima e la cosa che ritengo si debba mettere in particolare evidenza che è la prima categoria che nasce al di fuori della motonautica radiocomandata con una destinazione molto più improntata sull'elettrico che sul motore scoppio, cosa che per noi è fondamentale. Un seguito elevatissimo considerando il poco tempo che ha questa invenzione, chiamiamola così. Ma ripeto, la cosa di maggiore evidenza secondo noi è, oltre al fatto che sia una cosa molto divertente e che i giovani praticano molto volentieri, è assolutamente sicura perché di tutte le nostre specialità motonautiche è addirittura più sicura, in termini ovviamente di danni per i piloti, è addirittura più sicura delle moto d'acqua che peraltro è una specialità dotata di estrema sicurezza, ma soprattutto ha questa prerogativa dell'elettrico che trova la sua applicazione in un mezzo così piccolo e nel formato agonistico che quindi ci rende felici di aver potuto allocare all'interno del nostro sport questa specialità, a maggior ragione i campionati del mondo che si svolgono in Italia e in Puglia in particolare dove la federazione intera motonautica ha un rapporto strettissimo sia col circuito sia con lo shore che con tutte le altre specialità. E chiudiamo con la seconda tappa del viaggio dell'attacco nelle città che cambiano, seconda tappa che è Taranto nella città, la città dei due mari, da domani il reportage di Tommy Guerrieri in edicola, ascoltiamo qualche anticipazione. Una Puglia capovolta che vede nord e sud al contrario da Foggia a Lecce per la prima tappa di questo viaggio, quando la signora del barocco si è confermata città di moda e di tendenza, dove la narrazione è spesso stravinto sui fatti con modelli positivi da importare, come la riqualificazione di luoghi pubblici e una condivisione nelle pratiche di governo senza precedenti e con limiti ancora presenti sulle strategie di visione e programmazione, sulla mobilità o su un'idea di turismo di portata più lunga. La seconda tappa di questo viaggio è Taranto dove abbiamo trascorso giornate piene fatte di incontri e riflessioni in stupore, qui non c'è narrazione o meglio la sola narrazione per 40 anni è stata affidata una sola parola, ilva, non è passato altro. In questo brand Puglia che da anni stravince Taranto scompare, nonostante sia la città dei due mari, una delle più belle d'Italia, viste dall'alto e anche da dentro. Scompare, nonostante il suo corpo diplomatico e la sua difesa, la marina militare che ha fatto del castello aragonesi uno dei siti più visitati del paese. Qui autorità portuale ha detto la sua fermando grosse navi da crociera al porto e tenendo in città i turisti a perdersi fra le vie di lì sulla madre con saloni eleganti che si aprono e oggi ospitano mostre fotografiche, artisti d'eccezione o nelle lodi a San Cataldo o ancora nelle meravigliose sale del Martà dove i millenni di storia sono raccontati attraverso resti reperti, ricostruzioni e installazioni. Gli ori, la tomba dell'atleta, il tritico, Orfeo e le sirene. Da domani sulle pagine del giornale il nostro racconto che si apre con le riflessioni di Don Filippo Santoro, arcivescovo metropolita della città. Apriamo con lui il nostro viaggio perché lui ha dovuto fare da guida e non solo spirituale a una comunità ferita che ha dovuto scegliere fra la vita e la morte. Bene, abbiamo concluso. Grazie per essere stati con noi. Vi do appuntamento sempre domani alla stessa ora. Una buona serata da Onofrio D'Alesio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.